Sportiva della nostra emittente notiziario che apriamo parlando di pallavolo con il ritorno al successo della Valsa Group Modena Volley che ieri sera nell'infrasettimanale di Super Lega ha battuto in rimonta 3-1 Padova. Prima vittoria da tre della stagione per la squadra di coach Petrella che riparte dopo due sconfitte consecutive. Decisivo il contributo d'esperienza nei momenti di difficoltà di Bruno e Osmani Guantorena, lo schiacciatore Italo Cubano con coach Petrella nelle interviste realizzate per noi da Filippo Marelli. Sentiamo. Diciamo che MVP è tutta la squadra, dopo il primo set perso riuscire comunque a giocare un pochettino meglio e siamo stati bravi. Quindi siamo partiti un pochino nervosi perché dall'altra parte c'è scritto il nome di Padova contro Modena e tutti quanti pensano che Modena deve vincere 3-0, non è così, questa Super Lega è difficilissima, tutti quanti giocano pallavolo e quindi se non ci metti tatticamente, tecnicamente tutto in campo riesci anche a perdere i punti in giro. Quindi siamo stati bravi, complimenti alle squadre, godiamoci questi primi tre punti, ripossiamo che domenica abbiamo un match importantissimo contro la Lui. Io amo questo sport e provo ad aiutare i miei compagni. Oggi sono riuscito a dare una grande mano, ma non sempre così, quindi bisogna anche capire il momento su quale stai vivendo durante la partita. Se vai male in attacco provi a fare qualche recessione in più, qualche difesa, basta aiutare i ragazzi perché sono giovani, hanno bisogno di fare questo percorso e io sono contento insomma di dare il mio contributo a questa squadra con questa maglia. Sapevo che sarebbe stata una partita molto dura per tanti motivi perché giocavamo senza allenamento sulle spalle, venendo da una prestazione, quella di Perugia, che comunque a livello di energie ci aveva consumato tanto. Dopo tre giorni, quindi anche con poco tempo per preparare delle cose e sapevo che Padova non aveva nulla da rischiare nel venire qua. Per molti di questi ragazzi era la prima esperienza in un palazzetto più silenzioso del solito e quindi sotto pressione ci poteva stare che andassero in difficoltà, come poi effettivamente è successo. Sono stati bravi perché hanno reagito subito dal primo set e secondo me il chiudere il primo set con la sensazione che si poteva anche portare a casa ci ha aiutato poi nel resto della partita. Sono ragazzi giovani, ci sta che facciano più fatica magari a entrare subito in ritmo con la partita, sono stati bravi a rimanere attaccati anche perché sapevano perfettamente che nel loro ruolo non c'è tanta alternativa e sono stati bravi a rimanere in partita e sicuramente un passo in avanti rispetto alla partita di Monza dove invece ci avevamo lasciati andare. Per quanto riguarda invece il calcio,